Il piano sequenza è un brano di film di senso compiuto che si svolge senza alcuno stacco, ovvero è una ripresa che dall'inizio alla fine raccolta una scena, un momento di un film senza che ci siano interruzioni di montaggio e che è autoconclusa in se stesso. Abbiamo tantissimi esempi di piano sequenza. Uno dei primi, tra i più importanti, è quello dell'Infernale Queenland di Orson Welles, nel quale si vede una macchina arrivare a attraversare un confine, addentrarsi dentro a una città e arrivare davanti ad un locale, vedere due personaggi che scendono dalla macchina e poi questa macchina esplode. Ecco, questo viene raccontato tutto senza che ci sia mai un'interruzione e questo è un piano sequenza.